Ragazzi, una notizia di calciomercato che sconvolge proprio tutti, Kylian Bappé ragazzi, Kylian Bappé, Kylian Bappé, Kylian Bappé, Kylian Bappé ha twittato, Kylian Bappé ha twittato, Kylian Bappé ha twittato E la volete sapere qual è la notizia ragazzi? Che Kylian Bappé sarà il prossimo attaccante della Juventus, è già tutto fatto ragazzi, guardate che tweet che ha fatto ragazzi, è un tweet chiaro questo, è un tweet chiaro, Bappé sarà il prossimo giocatore della Juventus Adesso ragazzi ci metteremo al lavoro e scopriremo tutti i dettagli del contratto che lo legheranno a giugno a tutti gli effetti alla Juventus Dai cazzo, mamma mia che Kylian Bappé